A questo altro lato si stanno riscaldando i ragazzi della giovanile Chieti, qua c'è il mister, invece qua c'è la Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallo-rossa, quest'anno indossiamo il marchio Zeus per tutto l'abbigliamento sportivo, stanno preparando alla meglio i nostri ragazzi per ben figurare in questa gara, che è molto importante questa gara, per il morale. Qua in fondo, sempre con la classica divisa nero-verde, c'è la giovanile Chieti, ci sono i portieri che si stanno riscaldando, tra poco inizierà l'incontro alle ore 11 di oggi domenica, tra poco ci sarà l'appello da parte dell'arbitro, il signor Genovese della sezione Aia di Chieti. Signori e signori, buon divertimento!